Allora, in Italia ci sono dei lavori che non vuol fare più nessuno. Io ho risolto il problema. Siccome che quando prendi la gente a lavorare ti chiedono sempre solo quanto mi dai, e io gli dico quanto mi rendi, allora io, per raccogliere le mele, guardate, ho trovato due operai. Guardate, guardate, vieni avanti, vieni più vicino. Guarda l'intelligenza dei cavalli. Loro vanno vicino alla pianta, scuotono la pianta, le mele cascano e loro se le mangiano. Vaffanculo, questi sono più furbi di noi. Questi però rubano per mangiare. Lasciamoli rubare. Ciao!